Oggi siamo contentissimi perché finalmente possiamo fruire in questo contenitore culturale perché poi veramente la bellezza siamo convinti che possa salvare il mondo e l'animo. Ho deciso di essere tra i primi a rivisitare la Pinacoteca che finalmente oggi apre le porte perché eravamo veramente in attesa di questo grande evento per tornare in un tempio dell'arte come questo. Io in particolare sono molto contenta e gioiosa di rivedere riaperte queste sale che molti baresi e molti cittadini ma anche locali non conoscono, quindi della provincia di Bari e anche della regione. Quindi questa è un'occasione per riprendere gradualmente a lavorare. Quest'anno sarà un turismo dedicato agli italiani di rilanciare questo luogo, questo tempio culturale che comunque è abbastanza ignoto o da scoprire. Ho visto che qui si sono attenuti rigidamente a tutti i protocolli ministeriali, quindi comunque con molta calma, molta attenzione e anzi forse questo consentirà la possibilità di ammirare con più attenzione e con più calma le opere presenti qui.